In questo tutorial vedremo come formattare velocemente il testo e i paragrafi di un documento Word. Prima di iniziare vorrei spendere due parole sull'interfaccia Ribbon, introdotta da Microsoft a partire da Office 2007, su tutte le applicazioni del pacchetto. Tale interfaccia è composta da una striscia che mette in mostra tutte le funzioni che l'applicazione può compiere. Il suo principale punto di forza consiste nel concentrare tutte le funzionalità dell'applicazione in un'unica posizione, in modo da evitare di dover navigare su livelli multipli di menu, toolbar o altro prima di trovare i comandi desiderati. L'interfaccia Ribbon di Word è suddivisa in schede ed ognuna ospita bottoni, icone e menu a cascata, raggruppati per funzionalità simili. Purtroppo questa interfaccia non è disponibile per versioni di Office precedente alla 2007. Ad ogni modo consiglio ai possessori di Word 2003 di seguire ugualmente il tutorial, in quanto la maggior parte dei nomi dei menu e dei comandi è rimasta invariata, quindi la ricostruzione delle operazioni mostrate nel filmato dovrebbe essere abbastanza agevole. La scheda più importante dell'interfaccia è Home, dove sono presenti i principali comandi. In generale, passando il puntatore del mouse sopra un comando, esce un piccolo pop-up che ne descrive le funzioni ed aiuta a stabilire se è quello voluto. Questa caratteristica è presente in tutte le versioni di Office, anche quelle precedenti alla 2007. Passiamo ora al contenuto vero e proprio del tutorial. Allo scopo dobbiamo scaricare un paio di file. Aperto il browser dobbiamo andare su www.megamediateam.it. Sotto esercizi, Office, bisogna scaricare esercizio grezzo 1, esercizio 1 pdf. Quelli che si vedono sono i due documenti scaricati. In particolare a destra c'è esercizio 1.pdf, mentre a sinistra c'è esercizio grezzo 1.doc. Lo scopo del tutorial è quello di mostrare come fare a formatare il documento di sinistra in modo da renderlo uguale a quello di destra, in quanto il testo è il medesimo. Prima di iniziare il lavoro bisogna abilitare due funzioni molto utili nell'operazione di formatazione di un documento. La prima è il righello. Su Visualizza basta spuntare il righello e questo mostra un righello verticale ed uno orizzontale di fianco e sopra il documento. Come vedremo dopo, questi strumenti permettono di modificare i margini del documento o rientro dei paragrafi. La seconda è mostratutto nella schermata Home. Questo comando visualizza i caratteri nascosti nel documento e permette di identificarne in maniera precisa le varie parti. Il nuovo simbolo che compare alla fine di molte righe identifica la fine dei paragrafi e viene inserito ogni qual volta si preme il tasto invio. In questo modo risulta facile riconoscere i vari paragrafi. Ad esempio, desideriamo invitarla alla presentazione fino a con inizio alle ore 15 è un paragrafo. Così come la cortesa attenzione della o signori monti Elisabetta. Partiamo ora con il lavoro vero e proprio. La prima modifica da fare riguarda l'aumento della spaziatura tra i paragrafi come visibile nel file PDF. Allo scopo basta selezionare i paragrafi desiderati, andare su Home nel gruppo Paragrafo e selezionare Interlinea spaziatura paragrafo. Scorrendo il puntatore del mouse verso il basso, Word mostra l'anteprima della formatazione. In particolare i primi comandi modificano l'interlinea, cioè la spaziatura tra le righe selezionate. Per ottenere il risultato voluto basta cliccare su Aggiungi spazio prima del paragrafo ed eseguire nuovamente l'operazione con Aggiungi spazio dopo il paragrafo. In generale per modificare la spaziatura tra i paragrafi in maniera più fine si può ricorrere alla finestra di dialogo paragrafo. Per visualizzarla basta cliccare sul seguente pulsante. Nella sezione spaziatura è possibile cambiare i valori a seconda delle proprie esigenze. Modifichiamo ora il rientro prima riga dei tre paragrafi centrali del documento. Una volta selezionati basta posizionarsi col mouse sul righello, in particolare sopra il triangolino rientro prima riga, e trascinarlo della quantità desiderata. Nel file PDF ci sono anche due parti di testo aventi rientro sinistro diverso dal resto del documento. Per modificare il file Word è sufficiente selezionare i paragrafi in questione, posizionarsi col mouse sul righello sopra il quadrettino rientro sinistro, e trascinare della quantità desiderata. Come si vede, il righello permette anche di verificare che due parti di testo non adiacenti siano perfettamente allineate. Nel file PDF Andrea Gianardi e direttore commerciale Luxi SRL sono anche allineati al centro rispetto al rientro sinistro e al margine destro. Per sistemare il documento Word basta selezionare il testo e cliccare sul bottone Allinea al centro nella sezione paragrafo. In questo modo il testo viene allineato al centro rispetto al rientro sinistro e al margine destro. Infine, formattiamo alcune parti del testo mediante grassetto, corsivo e sottolineato, aumentando in alcuni casi la dimensione del carattere o modificandone il tipo. Grazie a tutti. Concludo il tutorial con una nota su una prassi piuttosto diffusa, ma assolutamente da evitare, che consiste nella formatazione dei paragrafi mediante lo spazio e l'invio. In pratica qualcosa del genere. Questa procedura, malgrado possa sembrare più semplice, è assolutamente da evitare per tre fondamentali ragioni. La prima è di natura temporale. Se dovessimo formattare in questo modo un file di 100 pagine ci impiegheremo probabilmente qualche ora, invece di pochi minuti. La seconda, strettamente legata alla prima, riguarda gli errori. Formattare file lunghi usando spazi ed invii significa introdurre quasi sicuramente errori di formatazione. La terza e ultima ragione è la stampa. Formattazioni non standard comportano infatti errori di disallinamento del testo visibili solo su carta. In generale, prima di chiudere un documento, è buona norma abilitare il tasto Mostra tutto in modo da controllare che non ci siano situazioni come quella che si vede.